Il sindaco Mario Conoci ha firmato nel primo pomeriggio di ieri l'ordinanza che chiude gli istituti scolastici cittadini di ogni ordine grado per le giornate di oggi e di domani, un provvedimento prudenziale che anticipa la chiusura per le vacanze di Pasqua prevista dal 1 aprile corri entro il 7. L'ordinanza tiene conto della situazione che vede alcune classi messe in isolamento fiduciario dalle autorità sanitarie scolastiche con conseguente sospensione delle lezioni. Determinante è stata la comunicazione del Servizio Igiene Pubblica con i dati relativi alla chiusura di diverse classi di scuola primaria e secondaria a seguito dell'accertamento della positività di alunni al Covid, in particolare la variante inglese. Fatto questo che in via precauzionale, quale misura finalizzata a contenere l'emergenza epidemiologica in corso, ha richiesto la sospensione delle lezioni da parte delle dirigenze scolastiche per un periodo di 14 giornate di quarantena. Si tratta di scuole di vari gradi di istruzione che accolgono sia alunni che personale, docente e non docente provenienti da altri territori comunali e che ciò determina contatti scolastici e scambi sociali frequenti. Abbiamo commentato l'ordinanza con il Sindaco Conoci che questa mattina ai nostri microfoni ha smentito l'ipotesi di zona rossa. Ad oggi sono 53 i positivi. Sindaco, diverse classi in quarantena, un'ordinanza di chiusura delle scuole era inevitabile? Diciamo che era una misura precauzionale e opportuna per evitare che ci possano essere fenomeni che non sono controllati. È una misura precauzionale che ci consente, chiudendo due giorni prima rispetto alle vacanze pasquali, di circoscrivere il problema e verificare che tutto vada bene. Quindi non è una misura arrivata dopo che il problema è scoppiato, ma è una misura adottata prima che potesse scoppiare. Io penso che sia opportuno che questo venga fatto senza che questo voglia dire zona rossa, che questo voglia dire scatenare il panico, perché ad Alghero i positivi sono oggi 53, quindi in una misura per la nostra comunità molto limitata. Ecco, dobbiamo lavorare perché questi numeri non crescano e questa misura della chiusura delle scuole è orientata verso questo obiettivo. Ho citato la zona rossa, ieri molti cittadini, con cittadini sui social, su WhatsApp, parlavano di un'ipotesi di zona rossa a un momento scongiurata. No, ho detto che i numeri che abbiamo ad Alghero non sono da zona rossa e così come non esiste un dilagare della pandemia, esiste appunto la necessità di essere prudenti. Questo valeva prima, valeva quando eravamo in zona bianca e vale ancora di più oggi. Per di più tutta Italia sarà zona rossa durante i giorni di Pasqua per decisione del Governo nazionale, anche quella è una misura precauzionale per consentire comunque poi una ripresa. Noi dobbiamo sempre tenere presente una cosa, che chi decide ha un duplice obiettivo. Da una parte c'è quello della tutela della salute e dall'altra c'è quello della tutela dell'economia e della socialità e quindi è un filo molto sottile sul quale camminare. Noi abbiamo il dovere di essere prudenti dal punto di vista sanitario e però allo stesso tempo di tener conto che la chiusura delle attività, la impossibilità della gente di uscire di casa comporta danni grossi sul piano economico e sul piano sociale. Sono tutte decisioni che vengono prese con grande attenzione, con ponderazione, pensandoci bene, cercando di mantenere un equilibrio fra questi due elementi. Nel frattempo si spera di accelerare con la campagna vaccinale, in tal senso va vista la creazione e la costituzione di un hub vaccinale ad Alghero nella palestra del Mariotti. Sì, l'obiettivo naturalmente è quello di liberarsi finalmente del problema sanitario, della pandemia e quindi la strada che dobbiamo seguire è quella dei vaccini. I vaccini vuol dire cercare di farli più in fretta possibile. Ad Alghero non era previsto un hub che invece era previsto a Sassari. Abbiamo concordamente con l'ATS, in particolare con il dottor Greco, con tutti i suoi collaboratori, con i medici del territorio, abbiamo deciso di aprire un hub ad Alghero, un centro vaccinale che tra l'altro sarà punto di riferimento del territorio, quindi non solo della nostra città. Il comune che non gestirà l'hub perché il centro vaccini viene gestito da un punto di vista medico, quindi dall'ATS, però noi abbiamo deciso di mettere a disposizione tutta la logistica, lo abbiamo fatto individuando l'area del Mariotti che garantisce distanziamento, la possibilità di gestire in sicurezza i flussi notevoli che ci saranno quando arriverà la campagna di vaccinazione generale e l'abbiamo fatto in tempi rapidissimi. Per questo io devo ringraziare prima di tutto i nostri operatori del comune che anche in questi giorni, in questo momento, stanno lavorando per attivare l'hub nei tempi più rapidi possibili. Gli operatori sanitari che hanno dato un'adesione perché si potessero fare le vaccinazioni, si possono fare le vaccinazioni nella nostra città in tempi rapidi e io penso che sia una bella prova della nostra comunità rispetto a questo problema. Con il sindaco dunque abbiamo parlato dei dati di Alghero in Sardegna ieri nel bollettino diffuso dall'unità di crisi regionale. Sono stati registrati 164 nuovi casi in calo rispetto ai giorni precedenti a fronte di 9.725 tamponi, tasso di positività che è sceso all'1,6%, tra i decessi. 200 invece i pazienti ricoverati in reparti ordinari Covid con un aumento di 11 rispetto al giorno precedente, mentre sono 31 uno in più quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono attualmente 13.747. I guariti registrati ieri sono stati 88. Intanto sul fronte della campagna vaccinale in Sardegna, dove sono state somministrate il 76,9% delle dosi ricevute, entro domani sono attesi nuovi invii. 13.100 dosi di Moderna, 28.000 circa di Pfizer e 35.900 di AstraZeneca. Entro il 12 aprile dovrebbero essere recapitate altre 83.000 dosi di Pfizer. Sinora gli ultrottantenni che hanno ricevuto almeno la prima inoculazione sono 56.000. Reparto Covid dell'ospedale Marino di Alghero che è ancora attivo. Attualmente sono 8 i pazienti ricoverati. Ieri c'è stata la visita dell'onorevole Vittorio Sgarbi in questi giorni in Turri in Sardegna. Il deputato è critico d'arte, tra l'altro ieri è stato anche a Sassari e Fertilia. Lo abbiamo intervistato con i colleghi di Sardegna Live. Sentiamo un estratto di questa intervista che potrete ascoltare integralmente subito dopo i Tg. Come mai si trova in Sardegna? La domanda è interessante. Mi trovo in Sardegna perché avevo progettato di venire in Sardegna perché era bianca, mi sembrava un simbolo di purezza. Come d'altra parte la sua condizione naturale, la sua impermeabilità a molti virus e soprattutto all'evenienza del terremoto. Siete in una terra privilegiata da questo punto di vista. Dopodiché improvvisamente, credo in maniera arbitraria, è stata declassata ad arancione. Avevo parlato ormai con il Presidente Paes e con altri amici per fare una serie di sopralluoghi non prevalentemente sanitari, ma ai luoghi monumentali e in parte ho cercato di farlo, soprattutto perché dobbiamo inaugurare un monumento alla Maddalena dedicato a mille lire che è l'eroe che si contrappose a Napoleone. Quindi c'erano una serie di progetti. Dopodiché, nonostante il tentativo di sfadermi dalla partenza, sono venuto, ho trovato una grande ospitalità all'hotel Lastastrone, sono trovato addirittura uno psichiatra, quindi mi sono subito sottoposto alle cure dello psichiatra, cercando però di indicare che il tema della malattia ha colpito molte menti, prima ancora che i corpi delle persone che hanno avuto il virus, come me, io ho avuto il coronavirus e sono guarito e sono quindi dotato di anticorpi, per cui non ho possibilità di ricontaggiare e di essere contagiato. Però devo dire che quando vedo una persona da sola che in Sardegna cammina lungo il mare con la maschera mi rendo conto che il contagio più terribile è stato nelle nostre menti, cioè averci fatto vivere l'incubo di un rischio anche dove c'è l'opposto del rischio, perché quello che una persona che ha un problema polmonare deve fare è respirare aria aperta, aria libera, come farà quando sperabilmente sarà guarito. Quindi tutti i nostri comportamenti sono stati condizionati da una politica sbagliata del governo che per pensando a chiudere, pensando a fare, non so, lei pensi a Ittiri, cosa può capitare dopo le 10 di sera? Allora perché c'è il coprifuoco dalle 10 di sera alle 5 del mattino per impedire a qualcuno di muoversi? Qualche magistrato si è di muoversi di casa, ma senza che ci sia nessun rischio possibile, se si appaula latino, se uno cammina per strada due di notte. Allora noi abbiamo patito una serie di misure del governo, naturalmente motivate dalla necessità di limitare al massimo i rischi, condizionando e coartando molte libertà costituzionali. Forzionalmente alcuni magistrati che vengono sempre invocati hanno dichiarato che noi possiamo dire che c'è una limitazione di movimento, ma non che c'è una impossibilità di muoversi per chiunque anche quando il rischio non c'è. Ieri seduta del Consiglio Comunale si proseguirà domani e tra i punti all'ordine del giorno c'è anche il regolamento delle entrate comunali e una mozione proposta da Forza Italia sulla riduzione della pressione fiscale, sottoscritta anche da altri esponenti di maggioranza. In una nota Forza Italia esprime profonda soddisfazione per l'inizio della discussione da parte del Consiglio Comunale della mozione, proposta dai propri consiglieri Spano, Argiolas, Musu e dal capogruppo Camerada, sottoscritta anche da Pulina del Misto e da Mulas di Fratelli d'Italia, che in questo difficile contesto emergenziale, con preoccupanti ricadute negative sul tessuto economico, propone modifiche regolamentari per giungere alla riduzione della pressione fiscale su famiglie e imprese. Gli algheresi devono essere posti nelle condizioni di non subire azioni esecutive onerose, che avrebbero l'unico effetto di aumentare esponenzialmente la crisi di liquidità dell'intero sistema economico cittadino, sottolineano dal Gruppo Azzurro. La mozione, la cui discussione proseguirà domani, impegna il Sindaco e la Giunta a modificare e integrare il regolamento generale delle entrate in conseguenza dell'aggravarsi della crisi economica a seguito del perdurare della pandemia, prevedendo significative misure, fra le quali l'ampiamento della rate azione massima concedibile dagli attuali 72 sino a 120 rate, eliminando la disciplina regolamentare che concede al funzionario responsabile il potere di discrezionalità in ordine alla valutazione economica della rate azione, per proseguire con la eliminazione dell'obbligo di fornire garanzia bancaria o sicurativa e consentendo la possibilità di rateizzazioni anche a chi, per motivazioni legate alla crisi economica o a momentane difficoltà, sia decaduto da precedenti piani di rateizzo, giungendo poi alla introduzione di una norma regolamentare che preveda l'eliminazione delle sanzioni in tutti i casi in cui non vi sia chiarezza sull'applicazione del tributo, al fine di mitigare per quanto possibile il contenzioso in essere e salvaguardare le ragioni del contribuente in tutti i casi in cui vi sia stata in passato incertezza sull'applicazione del tributo. Infine, allo scopo di ridurre il contenzioso, la mozione prevede la disapplicazione della decadenza dal regime agevolativo per le aziende costruttrici che possiedano fabbricati invenduti nel caso di omessa presentazione della specifica dichiarazione entro i termini. In definitiva, sottolineano da Forza Italia, la mozione, se approvata, costituirà un impegnativo indirizzo politico che prevede una reazione immediata da parte dell'amministrazione e dello stesso Consiglio Comunale per mettere in campo, quanto più rapidamente possibile, misure regolamentari e atti amministrativi volti a trovare soluzioni che agevoli in un cittadino e contribuenti nell'affrontare criticità che da economiche rischiano di diventare sociali. Se il Consiglio Comunale la approvata, anche con il voto favorevole, responsabili dell'opposizione proseguono da Forza Italia. Questa iniziativa politica potrebbe diventare una buona pratica in tema di riduzione del carico tributario che fungerà ad esempio per tutti i comuni della Sardegna. Questo, concludono, è solo un primo passo verso il sostegno vero e concreto della nostra comunità in questo momento di grande difficoltà. Ci fermiamo, ora c'è la pubblicità a tra poco. La cronaca è in apertura di seconda parte del nostro telegiornale perché si è aperto ieri a Sassari il processo in corte d'assise contro Massimiliano Farci, il 54enne di Assemine accusato dell'omicidio della fidanzata Speranza Ponti avvenuto nel dicembre del 2019. L'imputato difeso dall'avvocato Daniele Solinas è presente in aula, ha chiesto di non essere ripreso da video e foto dei giornalisti. Alla famiglia di Speranza Ponti, già costituita si parte civile con l'avvocato Stefano Carboni, si è unito il marito della vittima da cui era separata, ma leo preenito assistito dall'avvocato Edoardo Morette. La corte presieduta dal giudice Massimo Zaniboni ha aggiornato l'udienza il 17 maggio quando inizieranno a parlare i 26 testimoni chiamati a deporre in aula. L'assessore all'attività produttive Giorgia Vaccaro ha incontrato la scorsa settimana il responsabile regionale della pesca dell'Associazione Generale Cooperative Italiane Giovanni Angelo Loy, presenti anche il dottor Martinez, funzionario dell'assessorato, e il consigliere Maurizio Pirisi. L'incontro segue quello tenutosi recentemente con il presidente dell'Associazione Imprese di Pesca Banchina 1000 lire. Numerosi punti nell'incontro tenutosi in videoconferenza, dai fondi per la portualità e valorizzazione dei prodotti della pesca alle problematiche legate allo sforzo di pesca nei nostri mari. Si è parlato di vendita diretta dei prodotti del mare e degli interventi di efficientamento energetico che in questi giorni stanno interessando il mercato per la prima vendita del pescato, sito proprio in area portuale, e inoltre delle attività praticate nella laguna del Calic, con rilevazione di alcune criticità che si cercherà di affrontare in maniera congiunta. Altro tema al centro dell'incontro i ricci di mare, apprezzata iniziativa del centro di spedizione nel mercato della pietraia. Il responsabile regionale, che rappresenta pescatori lagunari di mare, operatori del corallo e subacquei professionali dell'area di Elguero, ha affermato l'assessore Giorgio Avaccaro, ha espresso il suo apprezzamento per le iniziative condotte dall'assessorato, allo sviluppo economico e per le prospettive di azione che sono state presentate. Sono oltre 4.000 le tipologie di rifiuti che lo scorso anno sono state censite nelle spiagge sarde. Da qui il comune di Elguero e l'ente Parco di Portoconte hanno formalizzato nei giorni scorsi un accordo di patrocino e collaborazione con l'associazione WeClean Ente No Profit, che ha come obiettivo la pulizia, la salvaguardia e la riqualificazione delle zone di pregio paesaggistico e ambientale del nord Sardegna e lo sviluppo di attività educative e informative per promuovere soprattutto nelle giovani generazioni la sensibilità e l'attenzione e l'azione nel campo della protezione ecologico-ambientale del territorio. Si tratta di un progetto pilota che parte da una delle aree più belle apprezzate dell'isola e che è destinato a replicarsi nei prossimi mesi in altre parti della Sardegna. WeClean, di concerto con gli enti locali e la collaborazione di aziende del territorio, operatori del settore turistico e cittadini, svilupperà interventi mirati da compiersi con tecnologie a impatto zero dallo studio delle aree con impiego di droni all'intervento di pulizia e risanamento con l'ausilio di mezzi elettrici. Anche per questo WeClean, come spiega la presidente dell'associazione Elisabetta Murenu, promuove un programma di adozione di spiagge, dune e sentieri, anche luoghi storici al quale potranno aderire oltre alle istituzioni anche aziende, operatori del settore del turismo e della ricettività, semplici cittadini e le scuole. Chi adotterà virtualmente una porzione di territorio avrà accesso a una community che nel condividere gli stessi ideali e valori offrirà opportunità di partecipazione diretta all'iniziativa dell'associazione e riconoscerà questo impegno con un efficace sistema di punteggi, bonus e specifici privilegi. Da WeClean all'Università delle Tre Età di Alghero, che prosegue la sua attività con le conferenze a distanza, quindi in DAD, si parlerà di un progetto molto interessante. Questo pomeriggio alle 16.30, un progetto che riguarda il Parco di Portoconte, si chiama Preoccupiamoci della nostra storia. Un esempio di cittadinanza attiva a relazionare sul tema sarà la dottoressa Antonella Di Riu del Servizio Educazione Ambientale e Fruizione dell'Ufficio CEAS del Parco e dell'Area Marina Protetta di Capocaccia, Isola Piana. Chiudiamo con il nuoto perché la porta a colore algherese del Green, Alghero, Alice, Maggioni e Arriccione per i campionati assoluti da domani, 31 marzo e fino al 3 aprile, si svolgerà nel centro della Rivera Adriatica quindi la manifestazione più importante dell'anno a livello nazionale nonostante le difficoltà incontrate nel mese di ottobre per svolgere gli allenamenti con regolarità. Anche quest'anno la porta a colori del Green prenderà parte alla manifestazione natatoria nella gara dei 50 a stile libero. A causa del Covid e delle limitazioni imposte, la piscina del Green infatti chiusa dal 23 ottobre che i nuotatori algheresi sono costretti ad allenarsi 3 o 4 volte la settimana nella piscina di Porto Torres che grazie ai contributi comunali è riuscita in qualche modo a rimanere aperta esclusivamente per le attività agonistiche. Ciò senz'altro aggiunge più valore ai risultati che gli atleti del Green stanno comunque ottenendo e ciò dà ancora più valore ad Alice che dovrà gareggiare fianco a fianco con i big del nuoto italiano quindi non possiamo far altro che augurare un grande in bocca al lupo ad Alice e Maggioni fiduciosi nelle sue grandi qualità tecnico agonistiche quindi ci uniamo agli auguri che le hanno fatto i suoi istruttori e ovviamente i suoi preparatori questa notizia chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale vi lascio al meteo come sempre e vi ringrazio per averci seguito arrivederci grazie grazie grazie